Bonacardo, santuario di Nostra Signora di Bonacatu, opera bizantina straordinaria da caponare la pelle, bellissima, risalente al VI secolo. Forse è il santuario mariano più antico dell'intera Sardegna e al contempo la chiesa bizantina più insigne dell'Oristanese. La chiesa sorge al centro di una grande e spaziosa piazza vicinissima all'importante e anche imponente chiesa romanica di Santa Maria che è già stata presentata in questi video. Fa grande impressione vedere in un solo colpo d'occhio la grande chiesa romanica che incombe sul piccolissimo ma bellissimo, straordinario santuario di Nostra Signora. di Nostra Signora. di Nostra Signora. di Nostra Signora. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!